La scrittura fluida e mai condita dalla retorica rende oltre che facile e assolutamente gustosa la lettura del libro che spiega la prima industrializzazione di Taranto, quella sancita dopo l'unità d'Italia, della realizzazione della base navale del relativo arsenale. Un binario logico sulla prima rotaia allo sviluppo dell'arsenale, siamo a fine 800, che cambia la stessa orografia della città e soprattutto del Mar Piccolo, sulla seconda rotaia allo sviluppo urbanistico di Taranto, soprattutto verso est, al di là del canale navigabile. L'arsenale è stata una grande famiglia nella quale gli arsenalotti si sono riconosciuti con la Taranto, perché ogni famiglia di Taranto per anni e anni ha avuto nell'arsenale il proprio padre di famiglia e che manteneva la famiglia, quindi è strettamente legato l'arsenale alla città di Taranto. In biblioteca Clavio, con la moderazione di Nicola Pastore, la presentazione della ristampa del volume Reggio Arsenale della Marina Militare di Taranto, storia, documenti e immagini di Mario Guadagnolo per la Scorpione Editore. L'arsenale non è soltanto storia, è anche presente e futuro, come ribadisce il direttore, l'ammiraglio ispettore Pasquale De Candia. Qualche difficoltà non manca mai, però possiamo già considerare tutte le opere che sono state realizzate col piano Brin e quelle che sono ancora previste di prossima realizzazione. Le assunzioni, anche se non sono quelle previste, però sono arrivate e anche questo è un segnale importante. Alle assunzioni si collega anche la formazione di questi nuovi assistenti tecnici. Anche i piani per la musealizzazione dell'arsenale stanno andando avanti concretamente, quindi su tutte le direttrici il futuro dell'arsenale e quindi anche della città di Taranto indirettamente è sicuramente assicurato.